Il marchio, il marchio, il marchio fuoco, che questo marchio qui ce l'ha solo il consorzio, sono tutti numerati. Si deve difendere cercando i prodotti marchiati, prodotti a denominazione d'origine controllata, prodotti a denominazione d'origine controllata e garantiti, come in questo caso il prosciutto di Parma. Se noi guardiamo una forma vediamo che il prodotto è marchiato. Su questi prodotti il nostro compito è quello di fare dei controlli, sia presso gli allevatori, sia presso gli stagionatori, sia presso i punti di vendita. Intanto andiamo a verificare se la razza utilizzata è quella prevista da disciplina di produzione. Il prosciutto di Parma è una disciplina di produzione che prevede determinate regole e in base a quelle regole noi verifichiamo se vengono rispettate in tutta la filiera. Sono stati fatti grandi passavanti. Oggi la qualità dei prodotti è salita e riusciamo a intervenire su tante frode e sofisticazioni, con un numero notevole di controlli. Abbiamo fatto oltre 53.000 controlli sull'agroalimentare, 57.000 prodotti controllati, 22.000 tonnellate di prodotti sequestrati. Sui risultati abbiamo avuto il 98% di successi nella rimozione dei falsi prodotti su Ebay, Alibaba e Amazon. Deve verificare se il prodotto effettivamente ha un marchio e che corrisponde all'effettiva denominazione. La gente sta cercando più prodotti tipici, prodotti di cui ha una certa garanzia e prodotti che vengono dalla filiera corta. Non per nulla sono stati fatti anche gli ultimi decreti per quanto riguarda l'origine del prodotto, del latte, del grano, del riso, per tutelare ancora di più i prodotti italiani, per sapere effettivamente da dove arrivano i prodotti. Italia Zuccheri è l'unico marchio italiano di zucchero di origine al 100% italiana. Molti consumatori acquistano dello zucchero di altre marche, convinte di acquistare e di sostenere l'agricoltura italiana, in realtà acquistano dei prodotti che arrivano dall'estero e che in Italia vengono unicamente confezionati. In questo modo, anziché sostenere gli agricoltori italiani, di fatto finanziano l'agricoltura di altri paesi, mettendo in pericolo il sostentamento della nostra filiera dello zucchero e della barbabietola che sta a monte. Ci sono dei marchi la cui percezione da parte del consumatore è di italianità, ma è una percezione legata a fatti storici che non corrisponde più alla realtà. Molti marchi sono passati in mano straniera e questo ha permesso alle multinazionali straniere di portare in Italia del prodotto che italiano non è, mettendo così in pericolo la vera produzione al 100% italiana. Fitto molto volentieri, grazie, grazie mille. Prego.